Il terremoto politico che ha squassato il PD dopo le elezioni del 4 marzo si è riverberato anche a Castellammare in vista delle prossime amministrative caratterizzato dal cambiamento e dalla riorganizzazione di idee, liste e uomini e tra questi uomini non ci sarà più in segreteria Andrea Di Martino. Perché? Io non sarò più in segreteria, ho scelto di non stare più in segreteria perché non ho condiviso non condivido, non mi persuade la linea che il segretario cittadino del PD sta portando in questi giorni penso che sia una linea minoritaria, porta all'isolamento del Partito Democratico, porta alla sconfitta Spieghiamo cosa è accaduto in questo weekend caratterizzato sia dalle tue dimissioni sia da una riunione in cui l'ex sindaco Tony Pannullo ha chiesto delle risposte che non gli sono state fornite e caratterizzato anche da un summit, da una riunione di Salvatore Vozza che in qualche modo si era aperto alle civiche bocciate però dal segretario cittadino Nicola Corrado definendole criminogene. Io penso che la proposta di Leo, la proposta di Alvatore Vozza di Laura della Monica sia una buona proposta che mette in campo le migliori forze della città per cambiare Castellammare. A questa proposta di grande respiro, secondo me non si può rispondere come ha fatto il PD, bisogna partire dalla sinistra le liste civiche sono criminogene sono due errori politici che portano all'isolamento del PD, due errori anche verso la città le liste civiche hanno rappresentato in questi anni il 70% della rappresentanza consigliare e nel contempo non si può dire partiamo dalla sinistra, la sinistra a Castellammare se mettiamo insieme tutti i voti presi dal PD volendole considerare tutti di sinistra quelli di Leo e quelli di potere al popolo non superano i 5.000 voti è legittimo, attenzione, poter pensare di aver già perso le lezioni e attrezzarsi a questo ma penso che sia arrendevole e io non lo condivido, questo è il punto politico l'altro tema è il giudizio sull'aggiunta Pannulla la principale ombra delle esperienze di Pannulla è una sola Pannulla aveva garantito alle elezioni che lui sarebbe stato il garante della coalizione ebbene, l'errore che ha commesso Pannulla da un certo punto in poi è stato venire meno a questo patto e bisogna dirglielo a Pannulla e bisogna dire che i responsabili delle cadute del Consiglio Comunale Cuomo e Pannulla non possono essere candidati perché non devono essere messi in condizione di fare altri danni alla città poi c'è un altro punto è l'allarme che Pannulla lancia sui condizionamenti camorristici e mofiosi questi devono essere tenuti lontano da qualsiasi esperienza che si properrà al voto alle prossime elezioni amministrative quando Corrado ha detto il PD deve ripartire dalla sinistra significa già un'ammissione di sconfitta alle prossime amministrative però almeno i suoi rappresentanti in Consiglio Comunale saranno fidatissimi e di conseguenza è il primo tassello di un progetto a lungo termine può essere che sia così, può darsi mi è sembrato di sentire i segretari di rifondazione quando all'epoca era segretario provinciale di quella forza politica che ragionavano così, meglio pochi ma sotto controllo io penso che questa è una idea sbagliata e minoritaria era stato ventilato anche il tuo nome quale possibile candidato del PD alle prossime amministrative ti senti anche tu in qualche modo fatto fuori? io so di avere un rapporto con le parti importanti di questa città ma oggi però che questo si traduca in una candidatura a sindaco è un ragionamento veramente prematuro se c'è questa volontà da parte della migliore società stabile di scendere in campo, di impegnarsi, di fare un patto se c'è questo c'è ancora possibilità di cambiare stabia e se c'è questo si può anche valutare allo Stato però questo si deve costruire e toccava al PD costruirlo il PD si è sottratto ad essere lievito di un processo di cambiamento i democratici non sono nati per chiudersi in un angolo i democratici non sono nati per abbracciare la bandiera della testimonianza grazie 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 grazie